Mi sono accorta che davanti a me c'era quest'altra presenza, la mia ombra, che è enorme all'inizio. È una forma, è una forma di me. Pensavo di essere da sola e invece ero io e io, io e quella persona lì, proiettata. Io dialogo con questa ombra. Non a caso ho voluto lavorare sull'imprevista e mi è capitato di ogni. Più volevo controllare le cose e più non le potevo controllare. Quando tu ti prefiggi per forza una strada, un percorso e avvengono degli imprevisti che semplicemente te lo deviano, che cosa fai? Lotti? Però tu vai avanti. Ti rendi anche conto che questi segni, queste rotture, questi errori creano anche quello che sei tu. Per un attimo dici, ok, mi arrendo un attimo. Mi arrendo a l'imprevisto. Mi arrendo a un qualcosa che non va come ho pensato. Accettarlo e dire, ok, sono questo in questo momento. Tante volte la crisi, l'imprevisto, è un'opportunità. È una grande opportunità anche di conoscere un'altra parte di te che ti sorprendi. Dici, ok, io sono questo perché sono anche il risultato di queste cose che sono successe. Grazie.